Una buona serata a voi tutti e bentrovata all'appuntamento con l'informazione di Star News. A Catania la Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di misure cautelare reale per gli amministratori, il consulente fiscale e il rappresentante legale di una New Co, oltre al sequestro delle quote e del compendio aziendale per un valore di circa 300 mila euro. Vediamo. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania ha emesso un decreto del GIP del Tribunale Tenneo che ha disposto misure cautelari reali nei confronti di Vincenzo Carastro e Alessio Carastro, rispettivamente fratello e figlio di Maurizio Domenico Carastro, già sottoposto ad indagine, insieme a Giuseppe Eusebio Carastro per bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale. Le indagini avevano inizialmente riguardato la società Etnaporte SRL, con sede a Catania e operante nel settore della fabbricazione di porte e finestre, dichiarata fallita dal Tribunale di Catania nel 2018. Era emerso che gli amministratori di diritto e di fatto della fallita, individuati in Giuseppe e Maurizio Carastro, avrebbero distratto liquidità e beni aziendali, per oltre 170 mila euro dalla Etnaporte SRL, poi fallita, a favore di una nuova società, la Citydor SRL, solo formalmente amministrata da un soggetto terzo, Salvatore Giuseppe Asero, allo scopo di poter proseguire l'attività commerciale senza dover far fronte ai debiti maturati. L'unico debito saldato, a ridosso della sentenza di fallimento, sarebbe stato quello privilegiato, contratto con un istituto di credito, in quanto erano previste delle ipoteche volontarie che, se azionate, avrebbero potuto colpire i beni posti a garanzia. Tale pagamento per un importo di 70 mila euro avrebbe pertanto favorito un creditore a danno di tutti gli altri. All'esito delle indagini su delega della Procura, le Fiamme Gialle avevano dato esecuzione nel settembre 2022 a un decreto del Tribunale di sequestro preventivo della somma di 240 mila euro, corrispondente al valore della liquidità e dei beni distratti, ovvero oggetto di pagamento preferenziale, nonché del compendio aziendale e delle quote societarie della società City Door SRL, beneficiaria degli asset aziendali della fallita. Era stato rilevato dai finanzieri che presso la City Door SRL era stata attivata un'ulteriore società, la Italport SRL. Formalmente amministrata da Alessio Carastro, figlio di Maurizio, la nuova compagine societaria si sarebbe avvalsa delle strutture aziendali e dei beni strumentali originariamente della fallita, poi distratti a favore della City Door e di Vincenzo Carastro, zio di Alessio, per proseguire in continuità delle precedenti società l'attività di fabbricazione di porte e finestre. L'insieme degli elementi acquisiti avrebbero pertanto fatto emergere un collaudato e articolato sistema fraudolento basato sulla creazione di società formalmente distinte rispetto alla fallita, ritenute in realtà fittizie e tutte riconducibili agli indagati, il cui unico scopo sarebbe costituito nel consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa attraverso i beni, le attrezzature e i proventi sottratti alla fallita. Per quanto ricostruito dunque dagli investigatori, gli amministratori della fallita Etnaporte SRL sono stati ritenuti responsabili del reato in concorso di bancarotta fraudolenta patrimoniale preferenziale, unitamente a Salvatore Giuseppe Asero, amministratore, presta nome della società City Door SRL, a Giuseppe Mannino, consulente fiscale di entrambe le citate società, nonché socio di minoranza di quest'ultima azienda, e ad Alessio Carastro, formale rappresentante legale della nuova società Italport SRL. All'esito di tutto ciò, il GIP del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura, ha disposto quindi il sequestro preventivo anche delle quote del compendio aziendale della società Italport SRL, per un valore stimato di circa 300.000 euro. Notte Tempo aveva danneggiato il defibrillatore installato nella piazza di Caltagirone. A distanza di qualche giorno i carabinieri hanno individuato il responsabile e denunciato. Si tratta di un 22enne di San Michele di Ganzaria. Vediamo il servizio. I carabinieri di Caltagirone hanno denunciato un 22enne di San Michele di Ganzaria perché ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato. Nello scorso mese di settembre il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, si era recato presso la locale stazione dei militari per denunciare il danneggiamento avvenuto nel corso della notte del 18 settembre in piazza Umberto della colonnina su cui era installato un defibrillatore, importante strumento salvavita donato alla città nel giugno del 2020 dal Lions Club di Caltagirone. È stato minuzioso da parte dei carabinieri il lavoro di ricerca ed analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, sia del comune che di esercizi commerciali. Il responsabile del danneggiamento, come detto un 22enne, è stato così immortalato mentre armeggiava con la colonnina, facendola oscillare sino a divellerla dalla sua base e quindi facendola cadere sull'asfalto. L'individuazione e l'identificazione dell'autore sono avvenute attraverso una sinergia fra i vari comandi dell'arma, grazie alla quale i militari, per la loro personale conoscenza del giovane, hanno riconosciuto nelle sue fattezze il 22enne, residente come detto nel comune di San Michele di Ganzaria. Alcuni cittadini di Adrano da qualche giorno stanno vivendo un imponente disagio legato all'acqua torbida che fuoriesce dai rubinetti delle abitazioni. Per questo motivo il sindaco Fabio Mancuso con una ordinanza ha disposto il divieto dell'uso potabile. Noi oggi abbiamo sentito il direttore dell'ACOSET, l'azienda che gestisce il servizio idrico della città, Antonio Coniglio, che al telefono rassicura tutti i cittadini. Sentiamolo. L'ACOSET è al lavoro per cercare di capire quale siano le cause del disagio che in questi giorni si sta verificando nei rubinetti delle abitazioni con l'acqua torbida che fuoriesce. Qual è la situazione attuale? Sino a questa mattina avete fatto tutte le verifiche del caso, ma ancora il problema non è stato individuato. Il problema non è stato individuato. Da qualche giorno come è visibile ci si è trovati dinnanzi a un fenomeno di torbidità dell'acqua. A questo punto che cosa è stato fatto? Per il principio della massima prudenza, della massima cautela nei confronti dei cittadini, il pozzo è stato fermato, dunque Adrano non riceverà più acqua da questo pozzo. Non ci saranno però di servizi idrici perché stiamo servendo Adrano attraverso il resto della rete. Per quanto riguarda la genesi del problema, è possibile allo stato attuale noi registriamo un fenomeno di indorbitimento di una falda superficiale, non riusciamo ancora a comprendere la causa. Non ci sono certamente dei problemi strutturali al pozzo, però vanno fatte tutte le attende verifiche nei prossimi giorni che riguardino l'intera struttura di distribuzione del corpo idrico. Non ci sono però assolutamente dei problemi per i cittadini. I nostri tecnici sono al lavoro H24 e sicuramente nei prossimi giorni noi avremo una risposta sulla genesi del problema. Ma voglio assolutamente rassicurare i cittadini, abbiamo in mano già le analisi dell'ASP fatte nei giorni precedenti che comunque non registrano dei problemi di potabilità, ne faremo altri, stiamo processando un altro campione, ma voglio dire che il pozzo è fermo, dunque da quel pozzo non arriverà acqua da Adrano fino a quando la questione non verrà affrontata in modo definitivo e risolutivo. Certamente nel momento in cui il pozzo è fermo cessa il problema, perché non arriva acqua da parte di quel pozzo, l'acqua arriverà dal resto della rete, quindi certamente il sindaco presso atto di questo fatto revocherà l'ordinanza e quindi sarà possibile nelle prossime ore ritornare in una condizione di normalità. Poi noi notizieremo l'amministrazione comunale e ovviamente il comune di Adrano su quali interventi stiamo facendo su questo pozzo in modo da rimetterlo in moto e tornare alla situazione che avevamo qualche giorno fa. In base alle analisi questo colore marrone si tratta di fango? Innanzitutto questo tipo di condizione dal punto di vista colorimetrico potrebbe trattarsi di materiale di natura sabbiosa, ma non incide sulla qualità dell'acqua perché dalle analisi che voglio dire dell'ASP non risulta assolutamente una condizione inquinante in zenzolato, il punto è che ovviamente per il principio della massima cautela se c'è un dubbio il sindaco fa l'ordinanza per bloccare tutto e noi fermiamo il pozzo come abbiamo fatto, ma non possiamo assolutamente dire che l'acqua non è buona. Per un fatto sopravvenuto, per una causa di forza maggiore si è determinato un problema di torbidità dell'acqua dal punto di vista colorimetrico e quindi a tutela dei cittadini non si dà acqua da questo pozzo. Da questo punto di vista abbiamo avuto un rapporto costante con il comune di Adrano, Acoset del comune di Adrano e ciascuno per quanto di propria competenza nel rapporto con l'ASPA ha assunto le determinazioni a tutela dei cittadini. La discarica OICOS di Motta Sant'Anastasia rischia di chiudere. Il CGA, Consiglio di giustizia amministrativo, ha sancito il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto, è illegittimo. Si prevedono quindi disagi nella raccolta dei rifiuti in diversi comuni, ma vediamo il servizio. E a rischio chiusura la discarica OICOS di Contrada Balanchi d'Inverno in territorio di Motta Sant'Anastasia con conseguenti possibili disagi per i cittadini di diversi comuni della provincia Etinnea e non solo. Nelle scorse ore il Consiglio di giustizia amministrativa a Sicilia ha sancito che il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto è illegittimo. Una vicenda sulla quale si era pronunciato sulla stessa fassarica del CGA anche il Tribunale Amministrativo Regionale. Una problematica su cui i comitati no discarica si battono da anni. Rinnovo dell'autorizzazione illegittimo in primis per via del mancato rispetto della distanza minima obbligatoria di 3 km dal centro abitato Mottese. Il CGA in pratica ha bocciato il ricorso della OICOS contro il Comune di Misterbianco, l'associazione Zero Waste Sicilia, Lega Ambiente Sicilia tutti costituiti in giudizio e quattro cittadini attivisti non costituiti in giudizio, nonché nei confronti della Presidenza della Regione, ARPA, Assessorati Regionali Territori e Ambiente, Energia e Servizi Pubblico e Utilità, tutti rappresentati a difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo. Il pronunciamento del CGA Sicilia mette un nuovo fondamentale punto fermo sull'articolata vicenda della discarica di valanga d'inverno, ha detto il sindaco di Misterbianco Marco Cocosaro. In sindese, le autorizzazioni ambientali per l'impianto ubicato fra la nostra città e il vicino territorio di Motta non dovevano essere concesse o comunque il procedimento avrebbe dovuto avere una istruttoria molto più approfondita e trasparente. Il Comune di Misterbianco ottiene quindi riconoscimento chiaro e puntuale delle proprie ragioni nell'ambito di un lungo impegno condiviso che ha visto la nostra comunità muoversi in maniera combatta e convinta insieme ai comitati no di scarica. Sulla vicenda è intervenuta anche la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, la Misterbianchese, Iose Marano. La sendenza della Corte di Giustizia Amministrativa conferma che avevamo ragione, dice la Marano, sulla questione infatti il Movimento 5 Stelle a tutti i livelli istituzionali si era fatto portavoce delle esigenze dei cittadini che giustamente lamentavano un peggioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente sul territorio circostante. Oggi si certificano i disastri di una gestione amministrativa e politica cominciata con il precedente governo e proseguita con l'attuale e proseguita con l'attuale, ha detto la Marano, un immobilismo che graverà interamente sulle spalle dei cittadini che con l'arrivo dell'estate e in nome di un'emergenza perenne vedranno moltiplicare i propri rifiuti sulle strade. Mentre il deputato del PD all'Asse, Nello Di Pasquale, ha evidenziato che la sendenza CGA fa temere una nuova stagione di emergenze rifiuti e la soluzione che sembra delinearsi quella dell'invio all'estero dell'indifferenziato è grave tanto quanto il problema se si pensa che i costi li eviteranno. Il sindaco chiuda gli accessi e ripulisca la casa cantoniera perché costituisce pregiudizio per la salute pubblica. È quanto si legge in una nota dell'ASP inviata al sindaco di Adrano Fabio Mancuso in merito allo stato di degrado in cui versa l'immobile in via San Paolo oggetto di un esposto denuncia da parte di un residente della zona. Ma vediamo il servizio. Ce ne eravamo occupati lo scorso 24 maggio quando una cittadina di Adrano, la signora Vincenza Stimoli, ha presentato un esposto denuncia presso il commissariato di polizia in merito ad una situazione di degrado a cui è costretta a vivere. Ci riferiamo alla casa cantoniera di via San Paolo incontrata a Naviccia ad Adrano, abbandonata da tantissimi anni. Una struttura originariamente di proprietà dell'ANAS che si presenta nel totale degrado rappresentando anche una situazione di pericolo per l'abitazione adiecente dove abita la signora Stimoli e per chi transita davanti l'immobile, soprattutto quando si verificano forti folate di vento con le tegole ormai diverte che volano via. Quando ci sono brutto tempo come quello che abbiamo appena passato, mi scendono, mi cascono le tegole, mi volano e mi fanno danno. Ci sono anche altri bambini accanto che potrebbero essere anche colpiti e ammazzati e chi ne risponde di questo delitto, diciamo. Inoltre poi ci sono topi, serpenti che io di là sopra li vedo che salgono e camminano tetto a tetto. A seguire dal punto di vista giudiziario la signora Stimoli è l'avvocato Marica Terranova che è anche consigliere comunale di opposizione. L'avvocato Terranova per conoscenza aveva inviato l'esposto denuncia anche al sindaco di Adrano Fabio Mancuso e all'ASP all'Ufficio Igiene Pubblica. E a rispondere oggi è stata proprio l'ASP a seguito di un sopralluogo effettuato e dopo aver verificato l'effettivo degrado dell'immobile, inviando così una nota al sindaco dove si legge il fabbricato risulta abbandonato ed è in uno stato di degrado, circondato da erbacce e spazzatura, appare con infissi di velti e tetto sfondato, rappresentando un ricovero per cani, colombi, ratti e insetti vari, costituisce un pregiudizio per la salute pubblica. Lo stesso dovrà pertanto essere sottoposto ad opere che impediscano l'accesso all'interno agli animali, effettuando all'esterno interventi di pulizia, scerbatura e disinfestazione e all'interno opere di pulizia, disinfestazione e deratizzazione. Quindi intanto il dottor Allegra dell'ufficio Igiene e Ambiente di Adrano ha provveduto a intimare al sindaco di ripulire e di chiudere gli accessi in modo da impedire che entrino persone. Speriamo poi che il sindaco di suo sia attivi, perché comunque la massima autorità sanitaria del territorio ha la ricerca di questo fantomatico proprietario di questa casa cantoniera che dovrebbe essere il comune, perché ho interpellato, ripeto, ribadisco, gli altri enti, ANAS e città metropolitana, quindi probabilmente adesso troveranno questo proprietario e comunque al di là del fatto se lo trovino o meno il sindaco deve provvedere perché è la massima autorità del territorio. Mi dispiace che abbia dovuto sollecitarlo io perché un buon amministratore dovrebbe di sua iniziativa muoversi in questa direzione, ma i consiglieri esistiamo, comunali esistiamo anche per questo, per fare un'opposizione costruttiva salvaguardia della tutela della salute dei cittadini e della loro incolumità. E a seguito della nota ricevuta dall'ASP, il sindaco Fabio Mancuso ha emanato un'ordinanza inviata alla città metropolitana di Catania e all'ANAS con la quale intima i due enti competenti di provvedere entro dieci giorni alla pulizia dell'immobile e ad interdire l'accesso proprio nella struttura. Si è insediato ieri a Catania il neoeletto sindaco Enrico Trantino. Oggi a fargli visita è stato il vice premier Matteo Salvini. Vediamo. Visita istituzionale questa mattina a Catania del vice premier e ministro per le infrastrutture Matteo Salvini che ha voluto incontrare il neo sindaco del capologo etneo Enrico Trantino che proprio ieri pomeriggio si è ufficialmente insediato alla guida della città. A centro del colloquio a Palazzo degli Elefanti in primis il nodo ferroviario di Catania che da anni attende di essere finanziato opera strategica del valore di circa 900 milioni di euro che consentirebbe di rimuovere la cintura ferroviaria e restituire il mare alla città. Sull'argomento il ministro Salvini ha mostrato grande disponibilità. Altri argomenti sul tappeto l'emergenza abitativa il PNRR e le infrastrutture per i trasporti e la mobilità tra cui il completamento della metropolitana dossier specifici quindi su cui Trantino e Salvini si sono riservati successivi approfondimenti. E ieri pomeriggio come si diceva si è insediato a Palazzo degli Elefanti il nuovo sindaco di Catania. L'avvocato Trantino 59 anni proclamato ufficialmente eletto con il 65,83 per cento dei consensi pare a 85.479 voti. Tra i presenti diversi rappresentanti istituzionali tra cui il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, l'assessore regionale Marco Falcone, il senatore Salvo Pogliese, il parlamentare della Camera Valeria Sudano e Francesco Cencitto nonché il parlamentare regionale Dario Deidone. Io oramai ho rivisto i merittimi, i mestili, la mia famiglia oggi era qua così a me lo poteva godere un poco della mia presenza visto che mi vedrà sempre meno. Ma d'altra parte nessuno mi ha chiesto di compiere un sacrificio, mi sono io offerto per spirito di servizio e intendo onorare questo mio rapporto con la città ma soprattutto la fiducia importante che mi è stata data che per me non è certamente un punto di arrivo, anzi diventa un momento di partenza perché è stato un bel gesto d'amore, io lo devo ricambiare. Il sindaco ha anche incontrato per un breve saluto e un reciproco augurio di buon lavoro Maurizio Casetta, suo ospitante principale nella competizione elettorale. Io sono certo che ci sarà una posizione costruttiva, dovrà essere anche forte, dovrà essere polemica, dovrà essere dura, spero che non sia mai strumentale. È normale che poi nella politica si attraversino anche fasi di fibrillazioni determinate dall'esigenza di trovare un consenso ma certamente questo non credo sarà nelle corde del professore Caserta da cui mi attendo nel rispetto dei ruoli anche la possibilità di avere qualche input costruttivo in materia finanziaria. Dopo l'insediamento in municipio Enrico Trantino indossando per la sua prima uscita pubblica la fascia tricolore si è regato in cattedrale accompagnato dalla moglie e i figli per l'omaggio floreale a Sant'Agata. La fontana di via Fonte Maimonide a Paternò abbandonata ormai da anni è un bene da recuperare. Ne abbiamo parlato con il sindaco Nino Naso. Si parla da tempo di valorizzazione dei beni monumentali di Paternò come volano per il turismo eppure da anni una struttura che era il fiore all'occhiello della città è caduta in disgrazia e lasciata alle intemperie del tempo o addirittura anche alle azioni di vandele o ladri. Si tratta di fonte maimonide o acque grasse le cui acque si caratterizzavano appunto per la presenza di particelle di ferro e di anidride carbonica. Un tempo luogo di ritrovo per i paternesi e non. La struttura è rimasta attiva fino ai primi anni 60 ma fu poi abbandonata. Dopo essere stata trascurata per anni nel 2005 sono stati avviati i lavori per la riqualificazione e il recupero del sito il quale fu inaugurato nell'aprile 2007 e aperto al pubblico soltanto per 15 giorni. Lavori costate al comune oltre 200.000 euro. Da quel momento la struttura è rimasta chiusa ad eccezione nell'aprile del 2010 quando fu riaperta soltanto per qualche settimana in occasione della festa della primavera. Poi nulla. A impedirne la riapertura diverse criticità ossia problemi di natura burocratica, assenza di personale ma anche la necessità di migliorare le condizioni di sicurezza, vedi il caso della vasca di raccolta delle acque in cui occorre rialzare i muretti perimetrali. Intanto dentro l'area di Fonte Maimmonide si trovano allo stato attuale ricoverati tre cani. No, non sono all'interno del sito, sono lateralmente accanto. Sono accanto all'interno del sito e non ce ne possono essere, quindi da questo punto di vista no. Però che il sito deve essere recuperato così come tutti gli atti che abbiamo recuperato diventa importante per tutti noi. Deve rivedere il progetto perché così come è stato progettato non è in sicurezza, c'è pericolo per i visitatori ma in particolare per i bambini. Stiamo ragionando con i nostri uffici tecnici per vedere un po' perché anche lì diventa un centro importante, storia, tradizione nostra e quindi anche quello lo dobbiamo recuperare però al primo posto c'è la sicurezza dei cittadini e dobbiamo stare attenti. Bene, non ci sono ulteriori aggiornamenti quindi per il momento noi ci fermiamo qui con le notizie di Star News e l'appuntamento è rivolto ovviamente alle prossime edizioni. Intanto buona serata a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.